quando parliamo di patele pensiamo in patele e forse pensiamo in un animale che è fortemente attaccato sulla roccia e che non si muove ma veramente le patele sono come lumache che solo che fanno il movimento quando noi normalmente non siamo sulla roccia che quando sono onde più o meno forte ad esempio e qui si può vedere un video è una patella feruginia che si muove qui con le con le onde non ha una grandissima velocità e anche adatta il bordo della sua concilia a un punto della roccia di maniera che si protegge meglio di predatori e anche della dissecazione in marea bassa e qui possiamo vedere anche un altro video questo è fatto di colleghi di granada dove si si vede che una patella feruginia qui è la zona che ha fatto come una impronta che come la sua casa dove è adattata la concilia ha fatto un giro probabilmente per per mangiare e adesso è ritornando alla sua impronta